Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge per lo sviluppo delle forme associative della medicina generale. Il provvedimento prevede per il biennio 2021-2022 uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per potenziare le attuali forme associative di medicina di gruppo e medicina di rete della medicina generale. I medici che sceglieranno di lavorare in una di queste due modalità associative potranno disporre di maggiore personale infermieristico e di segreteria. Si prevede inoltre che la Regione adotti un piano di assistenza territoriale con la costituzione di servizi a gestione infermieristica nell'ambito distrettuale delle ASL e con il potenziamento della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità per implementare i servizi territoriali e domiciliari. Il disegno di legge è stato presentato per la Giunta dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi, relatore di maggioranza Alessandro Stecco, Lega, presidente della Commissione Sanità, relatori di minoranza Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi e Domenico Rossi, partito democratico, vicepresidente della Commissione Sanità. Ritengo che questo fosse uno dei capini della sanità territoriale da affrontare ad oggi, anche in relazione alla situazione pandemica. E quello anche di rilanciare e di elevare le forme associative del Piemonte è una fondamentale snodo che dobbiamo sbloccare. Benvenga questo stanziamento che va a dare un contributo di 10 milioni di euro per la formazione delle forme associative di medicina di gruppo e di rete. Avrei preferito una discussione più organica coinvolgendo tutti gli attori del territorio per contenere questa riforma all'interno di un unico provvedimento. Tra i 25 emendamenti presentati dall'opposizione è stato approvato all'unanimità dopo modifiche quello che prevede l'applicazione della clausola valutativa all'approvedimento per valutarne con cadenza biennale l'efficacia e l'impatto sul territorio presentato dalla Partito Democratico. Al termine della seduta sono stati approvati quattro ordini del giorno collegati. Quello del primo firmatario, Raffaele Gallo, Partito Democratico, impegna la Giunta regionale a prevedere il reintegro delle risorse regionali per il trasporto pubblico locale. I due della prima firmataria, Alessandra Biletta, Forza Italia, impegnano la Giunta rispettivamente ad approfondire la possibilità di estendere meccanismi propedeutici al potenziamento della medicina di gruppo in rete anche per i pediatri e a ripristinare le risorse stanziate a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge sullo sviluppo delle forme associative della medicina generale attinte dagli stanziamenti per il trasporto pubblico locale. Anche quello della prima firmataria, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, infine impegna la Giunta affinché i fondi regionali destinati al trasporto pubblico locale siano integrati. Altri sette atti di indirizzo collegati verranno votati nella prossima seduta.